Le uniche caratteristiche importanti di un giubbetto sono che il sacco sia sufficientemente grande, almeno 12-15 litri, e che sia adatto alla vostra conformazione corporea. Cioè, una volta indossato non si deve muovere, soprattutto se sottoposto ad una trazione verso l'alto. Inoltre non deve dare un senso di oppressione al torace quando il sacco è completamente gonfio.